I lariani partono pieni di brio e Todesco colpisce il palo. La Cremonese reagisce e va a segno. Guerrini a terra in area di rigore, Nicoletti, oggi molto attivo, e Finardi trasforma la massima punizione, è l'uno a zero. La Cremonese si scuote e va nuovamente a segno con Juarì, ben servito dal fondo da Nicoletti.